Eccoci! Eccoci da Essence! Missione! Vi volevo appunto aprire gli occhi sul fatto che sì, ci sono alcune cose che hanno buon inci, la maggior parte no, soprattutto i prodotti per la pelle, i fondotinte, i correttori, state molto attenti perché contengono molti ingredienti dannosi che occludono la pelle e sono quelli che vi causano l'impurità, i brufoli, i punti neri. Se volete avere una bella pelle pulita, senza tante pulità, evitate questi ingredienti nei prodotti, soprattutto per il viso, è importantissimo. Qua ho tutti gli inci alla mano. Queste tutte queste cose qua va buono, che sono pieni di meticone, ciclopentax, loxane, quasi tutti i fondotinta, correttori, è vero Nancy? Non vanno bene. Invece questi qua stiamo vedendo i nuovi, che bello che li abbiamo trovati, quale colore dobbiamo prendere? Questi non hanno paraffine e silicone, poi ovviamente vi farò il video, a parte questo vlog vi farò anche un video recensione, tutte le cose che comprerò. Questi però mi sa che sono proprio buoni. Guarda, ci sono le due colorazioni, ah, poi c'è anche questo, è molto carino questo qua, guarda. Ah, pure carino. E invece questa, ti ricordi? Questa non andava bene. E invece questa qua, grande grande, questa penso che vada bene, già la prendiamo. Vediamo, qua c'è scritto dietro, meno male, qua c'è scritto l'inci. No, c'è il trimeticone, guarda Nancy che ti frega, che è sempre un silicone, quindi no. Perché alcune cose ci sono scritti gli ingredienti, tipo pure questa, e alcune cose sì, alcune cose no. Ad esempio qua, guarda che qua non c'è il silicone, non mi sbaglio, guarda Nancy. Vare proprio che non ci sia. No, non c'è. C'è male questo. Ha un buon inchi. Questo che cos'è, un trimeletto, è che non va bene, perché ci sono comunque, ci copie da seloxane, però al fine non mi copriamo. Sono dei nuovi, uscita labbra, ma non vanno bene, lì poi, in una collezione, perché ci sono tutte paraffine e schifezze varie dentro. Pure questi non vanno bene. Pure questi non vanno bene, è che Nancy si è studiata tutti gli ingredienti, però sta facendo tutte le cose alla mano. E' come una pazza, tutti gli ingredienti alla mano. Brava, brava. Poi gli smalti, questi sono carini però questi smalti. Sì, belli. Vediamo qualcuno. E poi, questi come sono questi ombretti che sono nuovi? i velvet new. L'hai controllati questi? Non mi ricordo. Controlla un po'. Questa qua, c'è dentro il dimeticone. Peccato, perché è una palettina molto carina, ma non va assolutamente bene. Qua ci dovete andare veramente con i piedi di pombo. Pure questo fa abbastanza schifo. Questo è proprio il male. Il make-up remover, uno stuccante che c'è a paraffine, dopo l'acqua al secondo posto, niente di stucche con la paracchina. Che schifo. C'è quella linea nuova, guarda, qua ci sono tutti i ginci. Ma io cercavo quella spring. La primavera. Sono belli questi colori di smalti. Sono proprio belli. Guarda questo come è bello. Dorato. Carino proprio. Questo mi controllo tutti i ginci. Come dici, Nancy, allora? Devi quadrare le cose. Dai, dici, che cosa? Dici, le luci da labbra, XXL, non vanno bene. Fatti compiti. Non vanno bene, certo. C'è labbra XXL, quali sono questi qua? Questi non vanno bene. No, lo c'ha. Poi c'è glossy kiss, neanche va bene. Eccoli qua. Questi new non vanno bene. E invece qualche rossettino. I rossetti sì. C'erano parecchi che c'erano. Nei rossetti qualcuno ne ho comprato, perché l'ho controllati uno ad uno. E adesso stiamo controllando. Anche i mascara ce ne sono. Questo per esempio non va proprio bene. Forbidden non va bene. Eppure questo è il famosissimo C'è solo paraffina. È tutta paraffina. E invece quello là che va bene? Eh no, non lo diciamo ora. Lo diremo nel video recensione. E niente, poi, ah, ecco qua, dobbiamo vedere questi qua. Queste, le terre. Le terre le prendiamo qualcuna, che questi hanno buoni inci. Ok. Io voglio una molto, molto scura. Eh, questa è più scura che c'è stava. Guarda, così è chiaro. Eh, chiara. E invece questi qua, ragazze, fanno molto stifo. Sono i musso qua, c'è sti fondotinta, queste robe, fanno tutto. Eh, i lobby stage, il primer, tutti i correttori non vanno bene. E invece qualche blush, come andiamo. Questo è buono, adesso qua. È nuovo, ma. Ok. Eh, hai controllato l'inci? Eh, non ce l'avevo scritto, però è buono. ok. E questo? Quindi pure questo. Sono simili, però sono abbastanza scuri. Sono diversi da essiccità. Ok. E vai, sono senza brillantini. Abbiamo trovato tante cose, poi vi faremo vedere nel video. I profumini, invece, hanno un piaccio, sono carini, eh, Nancy? Eh, sono bei profumi. Beh, hanno bei profumini e non costano tanto. E queste qua, invece, le linee, pure queste qua, ce le dobbiamo guardare bene, tutte le cose per la pelle. Alcuni sono accettabili, altri un po' meno, quindi vanno pesanti questi con le pinze. Eccoci! Comprato tutto! Eccoci Essence! Abbiamo comprato. No, sono contenta perché avevo trovato tante cose, grazie a Nancy, ragazzi, e Pollice in su per Nancy, che è stata bravissima, ha fatto i compiti, e se è messa sul sito, ha controllato tutti gli inci. Perché non sempre ci sono gli inci. Non sempre ci sono, e meno male, perché infatti tante cose non c'erano. e vi ho fatto questo video anche perché spesso, quando poi vi farò la recensione, quindi lo sapete, proverò i prodotti, farò vedere nel dettaglio tutto tutto quello che ho comprato. Però ci tenevo a fare un video proprio in diretta, proprio a far vedere anche le cose che non vanno bene, che spesso nel video recensione, mi dimentico sempre di dirvi, o comunque perché durano tanto i video, non riesco a dirvelo. E poi detto questo, vi do appuntamento al video recensione, se lo volete, mi raccomando lasciate... Con tutte queste cose, con tutte queste cose. Lasciatevi tanti like per la mia sorellina, e vi mandiamo un bacio grande. Ciao!